Ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovissimo video del canale. Oggi un video veramente particolare e importante, perché sarà un video a collaborazione, come avete visto dal titolo e dalla copertina, questo oggi il video è in collaborazione con il Federick Store, sicuramente conoscerete questa fantastica realtà italiana, dedicata alle carte, ma non solo. Quest'oggi arrivaremo sì nell'ambito delle carte, perché andremo ad aprire il box di Regno Graciale, quindi 36 bustine dell'ultima espansione di Spade Scudo, che ci hanno inviato gentilmente dal Federick Store. Trovate tutto, box compreso, con carte singole, in italiano, inglese, giapponese, accessori, tappetini, codici per il gioco di carte online, quindi trovate ogni cosa sul Federick Store. Attenzione, potete addirittura usare il codice sconto, Rocket 25, entro fine mese sul vostro primo acquisto, 5%, attenzione, perché va usato solamente una volta e scade il 30 giugno. Quindi utilizzatelo per supportare il Federick Store e anche me, perché così potremo portare altre collaborazioni, insieme in futuro. Anche perché ho diversi piani con le carte Pokémon, potrei averne per il futuro. Il video va supportato, mi raccomando, quindi con un mi piace, importantissimo, un commento nella descrizione, al canale, attivando anche la campanella. Ragazzi, direi che questa chicca ci aspetta. Un box gigantesco. Cominciamo. Ed eccolo qua ragazzi, non manca più nessuno, ci siamo solamente noi e il box. Ve lo faccio anche vedere qui sotto, nell'inquadratura con il tappetino, veramente fantastico, dei colori sgargianti, un'espansione gigantesca, più di 190 carte, nuove carte a colpo singo, nuove carte a colpo rapido, i Calyrex, gli ucidi leggendari di Kanto in forma Galar, veramente un sacco di bella robetta in questo box. Ci sono diversi artwork, vedo, guardate quante sono ragazzi le bustine. Queste qua sono 18, ci sono diversi artwork, c'è Calyrex, Cavaliere Glaciale, abbiamo gli uccelli leggendari, anche veramente fantastici, Moltres, Zabdos, Articuno e anche l'altro Cavaliere. Quindi abbiamo 5, 5 artwork veramente fantastici, di solito sono 4, questa volta sono 5. Quindi grazie Pokémon Company per deliziarci con questi artwork. Ora, direi di partire però. Quindi, Calyrex, Cavaliere, Spettrale. Ci sono due carte di questi due fantomatici Pokémon che valgono 200 passa euro, perciò direi di, beh le bustine sti cavoli, direi di trovarle possibilmente. Le bustine sinceramente non mi interessa, ci sono anche i codici qua dentro, quindi codici ve li posso anche regalare, tanto sinceramente non mi servono a niente. Spero di, ricordami il trick, che dovrebbe essere 4, 4 più 2 in teoria, sì, 4 più 2. E speriamo di trovare qualcosa, perché se no, insomma, non va benissimo così. Guarda che belli artwork, fantastici. Delibird, guarda che belli, c'è Koffing, qua ragazzi si va, si punta alle Full Art, alle Hyper. Per colpo singolo, appunto, nuove carte colpo singolo, chiaramente, energia, elettro, tanta tanta roba. Chiglia, ci sono anche delle nuove energie gold, se non l'ho visto mai. È Narciso, ok, quindi vecchie generazioni. Corne che giante, abbiamo la reverse, Tania, direttamente appunto dal DLC, e poi c'è qualcosa, no, no. Passimian, Passimian è la nostra rara, rara, insomma, colpo rapido, però. Sono da tenere questi pacchetti, è veramente, veramente molto, molto belli. Peccato che c'ho le mani tutte di bianco, praticamente, perché il box perdeva un po' di sostanza, praticamente, dalla plastica. Eccolo qua, il codice, facciamo il nostro solito e consueto trick, che dovrebbe essere appunto 4, 2, ma ha funzionato, quindi. Ragazzi, almeno queste cose qua le so fare. Furfrù, beh, grandissimo Furfrù, veramente. Farfetch di Galar, colpo singolo, veramente belli, belli, colpo rapido, Sniddle, ci sta. Dirling, qua io voglio qualche carta succosa, incredibile da utilizzare, poi anche per altre serie, chi lo sa, Atrem. Completo di esplorazione, mmm, questo qua è DLC. Melania, ok, Sindra, reverse, colpo singolo, e poi abbiamo qualcosa, una B. Zabdos di Galar B, eccolo qua appunto. Nel pacchetto di Moltres, vabbè, ci sta, bello, bello. Calciotonante, 200, V, quindi non la più rara, però, dai, non si butta. Il codice, interessante, per chi vuole giocare a Pokémon TCG online, io, ahimè, non gioco più, quindi. Niente, ragazzi, ve li dono tutti, tanto non me ne farei niente, quindi, tanto vale. Bounce with Snorant, ok. Yamask di Galar, gli artwork sono fantastici, questo qua di Koffing, ragazzi, lo adoro. Slowpoke di Galar, c'è anche lo Slowking, che potrei voler trovare, possibilmente, guanti della giustizia, ma che, non ho mai sentito questa cosa. Kirlia, guanti spaccatutto, varie tipologie di guanti. Pettorale di Galar, reverse, e non abbiamo niente. Una Olo, Shaming Olo. Zabdos, via, madonna, mancano ancora troppi pacche, veramente, troppi, troppi, troppi. Io non sono abituato, ragazzi, ai box, questo qua è tipo il secondo, terzo in vita mia. Quindi ringrazio sempre il Federic Store per avermi fornito questo pacco. E vi ricordo anche, ovviamente, il codice sconto Rocket25, che scade a fine giugno, 5% di sconto. Se volete supportarmi e supportare il Federic Store è fondamentale. Deerling, Lapras, Swirlix, molto molto carino. Rockraff è molto molto puccioso, ma rip. Comunque gli artwork nel corso degli anni sono molto molto migliorati. Energia, fuoco, e niente, qua ho fatto un po' di macello. Fluffy, Savory, quindi l'altra versione, praticamente. Guanti giardinaggio, da giardinaggio, va bene. L'Iron, e cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Tornadus V, con un artwork veramente gogliardico. Guarda, c'è pure Scorbanni, c'è Rockraff, veramente, veramente bello. C'è Quilfish, c'è l'albero, praticamente, del DLC. Molto bello questo Tornadus, colpo singolo V. Non la più rara, appunto, però cominciamo già a crescere. Sicuramente qualcosa di interessante uscirà, se esce mai un cavaliere. Vimax, rara segreta, quindi fuori serie, io impazzisco, ragazzi, impazzisco. Veramente, veramente, 200 euro di carta. Eccolo qua il code. Quindi si cerca assolutamente, assolutamente quello. 4 più 2, ok. 4 più 2, dovevo avercela fatta. Al pelo, ho applicato le mani. Ragazzi, questa box mi ha lasciato un po' le mani così, sinceramente. Porigo, non è bannato. Gollet. Crablaurer, in mezzo alla frutta. Sfeel, bello. Venipid, dai, qualche carta interessante. Energia. Ladian, un artwork un pochino storto. Medico, generico proprio. Guanti della giustizia, reverse. Vediamo. Abbiamo Crabbovenable. E c'è ancora una. Urshifu. Urshifu, oh, lo single colpo. Colpo singolo, ovviamente. Veramente, veramente fantastica come carta. Non è quello che stiamo cercando, però ci avviciniamo piano piano. Vorrei trovare almeno un cavaliere. Vimax, assolutamente. Non ti dico quello da 200€, perché ci sono molte forne, però almeno qualcosina. Weedle, colpo singolo. Slowborg di Galar, queste cose ripetono. Quillfish, Blitzel. Kung Fu, interessante questo. Energia Psico. Tuaki, nuovo, colpo rapido. Bello, questo Porygon 2, i ricordi di Rarica Red. Energia Impatto. Medico. Deve essere una carta invidiabile. Oh, c'è qualcosa qua. C'è qualcosa, cos'è? Metagos V. Metagos V, colpo rapido. Ok, ok. Non è ancora quello che cerchiamo. Nonnazione. Niente uccelli di Galar, oppure Cavalieri. Metagos V. Fatevi sotto nei commenti. Supportate. Nelmeno possiamo fare altre collaborazioni con il Federic Store. Perché questo comunque sia... E potrebbe essere un inizio di collaborazione. Potrebbe, potrebbe, potrebbe. Però tutto dipende da voi, ragazzi. Quindi se ci tenete... Se ci tenete a queste collaborazioni, beh, è gratis. Premere il pulsante like. Yamask di Galar. Questo fantastico... No, vero, io adoro questi altri, perché mi ricorderei tutto il giorno. Cast Forma Pioggia. Ralts. Ok. Marip. Energia Buio. Fantastica. Drizzle. Ecco, Drizzle è nuovo. Anche se il Pokémon, meh, poteva uscire meglio. Tanya. Nia. Tutti i personaggi. Grookey. Reverse. Colpo rapido. E... Sembra niente. Uno Zengus. Nell'Africa di Artigli. Colpo rapido. Però non era niente, 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 niente di che. Ok. Ma io non demordo, ragazzi. Io, sapete, che non mollo mai. Solamente in certe serie. Purtroppo ci hanno sconfitti. E lì abbiamo dovuto quittare. Però questo, 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 questo. Non è il giorno. Quindi facciamo il trick. 4 e 2. 4 e 2. 4 e 2. Oh, ma c'è sempre Banswit a inizio, a inizio per dare il pacchetto. Sempre. Snorant. Ok. Yamask di Galar. Koffing. Cosa rappresenta questo artwork? Me lo voglio proprio chiedere. Slowpoke di Galar. Energia acqua. Molto carina. Atrem. Cristiano di Bruma. Ok. Strumenti particolari. Tuaki. Sarina. Reverse. E... C'è qualcosa qua. Qua c'è qualcosa. Però è una V. È una V. E Moltres di Galar. V. Ok. Non quello ancora che vogliamo. Non così raro. Cioè non è che vale tantissimo questa carta. Però dai. Moltres di Galar V. Scottatura. 190. 220. È il secondo giacca che troviamo, se non ricordo male, di uccelloli leggendari o di Galar. In teoria. Dovebbe essere così. Moltres appunto. Adesso apriamo il pacchetto di Moltres, ragazzi. Apriamo il pacchetto di Moltres. C'è già un fantastico Lapa. Si fa che li ho praticamente distrutti tutti. Quindi... Capite, ragazzi, che nella fuga uno rompe tutto, praticamente. Codice. Molto, molto fiero. Che potete utilizzare. 36 codici quest'oggi. Dati gratuitamente dal buon, buonissimo Rocket. In collaborazione con il Federic Store. Lapras. Zwirlix. Rockraft. Che è sempre carinissimo. Veramente carinissimo. Marip. Grookey. Energia metallo. Ok. Guanti ignifugi. Madonna che paroloni. Ma che è? Insomma. Nia. Sileo. Forse c'è qualcosa in fondo. Fluffy Reverse. Ok. No, non è niente. È un guardovarolo, però. È un guardovarolo. Dai, un guardovarolografico. Onda cerebrale. Un tormento. Un tormento sto trick. Weedle. Ok. Slowpoke di Galar. Quillfish. Blitzel. Kubfu. Qua più o meno si ripete. Non è già psico. Rudy. Melania. Narciso. Che se non ricordo male è un super 4 di Kalos. L'antenna di Benvenuto. E cosa abbiamo qua? Wheezing di Galar. Bello. Simpatico. Simpatico. Però non è niente di olografico o cose del genere. Quindi non ci interessa più di tanto. Cavaliere Spettrale. Ragazzi. Certo che i box sono veramente veramente giganti. Cioè potete trovare proprio l'intero set. Infatti per trovare tutto il set ovviamente conviene più pigliarsi dei box. Anche se insomma costano leggermente di più. Però però meritano sinceramente per completare il set. Ma guarda un po' che si rivede. Inkay. Oh la vesta è un inedito. Diglett. Furfrù. Energia fuoco. Cattlina da Unima. Peoni. Che non avevo ancora trovato. Drizzol. Ampharos. Finalmente. Finalmente dopo tanti tanti pacchetti. E niente sembra. Duck Trio. Ma ma? Davvero c'è questo Duck Trio in giro? Oh qua non stiamo trovando nessuna carta. Nessun cavaliere. Ma che è sta storia? Ok. Diglett. Inkay. Kubfu. Bowswit. Già trovato 500 volte. Energia. Lyron. Dai qualcosa di molto molto buono. Atrem. Sentiero Bianca Cima. Inteleon Reverse. Perfetto. E qui è questo? Lycaroc Olografico. Colpo singolo. Forma Mezzanotte. Ok. C'è qualcos'altro dietro? Sembrava ci fosse qualcos'altro. Invece è veramente fantastico questo Lycaroc. Mezzanotte. Forma notte praticamente. Colpo singolo. Olografico. Oltretutto. Perciò neanche male. Questo caso non l'ho visto male. È Zabdos appunto. È il carissimo Zabdos. Di Galar. Qua c'è una valanga. Una valanga di roba poi da raccogliere. Ma veramente. Veramente troppa roba. Direi di fare il classico. Il classico ragazzi. Ormai l'avete capito come si fa. Vi insegno anche il trick. Vi insegno anche il trick. C'è un po' di suspense in più. Shappet. Scorbanni. Diglett. Inkey. Kubfu. Già trovato numerose volte. Energy Electro. Peoni. Tuaki. Ok. Willipid. Nuovo. Globopus che è reverse. E abbiamo Kecleon. Appeso a testa in giù. Ok. Kecleon. Ok. Ma non è quello che volevo. No. Insomma. Sono proprio sfortunato. Già con gli sciani sono sfortunato. Snowver. Colpo singolo. Castform. Ralts. Marip. Ma tanto la linea evolutiva è già completata. Glob. Boost. Faccino triste. Povero. Energia buio. Cimitero antico. Che ricordi. Ledian. Savuri. Già trovato. Snowver. Questa volta reverse. Dai. Dai. Niente. Rillaboom. Olo. Rillaboom Olo. Dai. Carino. Energia di tipo acciaio. Ok. L'antenna di benvenuto. Ledian. Sentiero bianca cima. Ok. Collina. Dai in albero. Reverse. E abbiamo qualcosa qua sotto. Cos'è? Vimax. Oddio. Sloking di Galar Vimax. Uh. Questa qua è la prima Vimax di quest'oggi. E mi interessava Sloking di Galar. Ed eccolo qua ragazzi. Dain a tossicità. Sloking di Galar. Fantastico. 320. Che bestia. Vorrei Cavaliere Spettrale o Glaciale Bimax. Iper rara. Fuori serie magari. Sarebbe. Sarebbe l'ideale ragazzi. Che dite? Sto soffrendo. Sto soffrendo. Slowpoke di Galar. Quilfish. Non di Galar perché non esiste. Blitzhole. Kubfu. Shappet. Energia acqua. Cimitero antico. Ok. Fiammetta. Fiammetta. Agatha. Agatha. Ok. Weedle. E abbiamo una V. Una V. Lyopard. Lyopard. Diciamo che non mi convince più di tanto eh. Lyopard. Sprecare lo slot per le V. Per Lyopard. Mi fa rimanere un po' così sinceramente. E mosso cavoli vostri. Eccolo qua il codice. Eccolo qua il codice. E mosso cavoli vostri. Oddio. Oddio. Questo pacchetto secondo me è bollente. Non sono sicuro che il trick mi sia avvenuto bene. Perché mi scivolano le mani. Però vabbè. Kassform di lana. Kassform forma fuoco praticamente. Yamask di Galar. Swirlix. Energia metallo. Guanti da giardinaggio. Guanti della giustizia. Perché ovviamente ci sta. Kirlia. Abbiamo Zengus. Reverse. E abbiamo Gengar. Olografico. Olografico. Dite. Ci sta. Gengar con questa linguaccia. Si ribella al box. E ragazzi. I pacchetti stanno finendo eh. Stanno finendo. Ne mancano. Ne mancano sinceramente pochi. Quindi. E' tempo di fare qualcosa di sostanzioso. Dai 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 dai. Ti prego concentrati. Concentrati. Rocket. Concentrati. Scovet. Sobol. Eh ne mancano pochi stavolta. Eracross nuovo finalmente. Porygon. Farfrafico di gala. Energia psico. Completo di esplorazione di peoni. Lyron. Narciso. Lanterna. E abbiamo Weezing. Normale. Normale Weezing. Mi sto poi impanicando sinceramente eh. Cioè non pensavo di impanicarmi. Per granto ho detto un box. Ma sì. Cosa vuoi che vada storto. E niente. Sfil. Scovet. Shappet. Koffing. Molto bello questo Koffing. Yamask di gala. Energia. Sofora. Fluffy. Savory. Dai Castform. Forma pioggia. Reverse. C'è qualcosa. Una Vimax. No una V. Cos'è? Volcanion V. Volcanion V. È bella. È bella. Perché c'è. Tipo quelle che grattano. Tutta luccicante. Però non è una Vimax. Non è un Kyrex. Ragazzi. Mandatemi la vostra energia. Velocemente. Forma pioggia. Ralts. Marip. Clobopus. Weedle. Energia. Dai Agatha. Rabut. Ecco. Rabut è nuovo. Incredibilmente. Cimitero antico. Crabbo binable da reverse. E niente. Slowking di galar. Olografico. E vabbè. Oggi giornata slowking di galar ragazzi. Quattro pacchetti. Che abbiamo? Il cavaliere spettrale. Il cavaliere glaciale. Zapdos. Emotress. Emotress. Articuno. E quell'altro. Sono andati al baretto. No. Solamente Articuno manca. Ok. Solamente Articuno. Ok ragazzi. Meno 4 pacchetti. E la cosa si fa. Sta facendo preoccupante. Sinceramente. Ecco qua il codice. Tutto. Tutto per voi. La cosa si sta facendo. Preoccupante. Davvero. Davvero. Preoccupante. E spero di rimediare in questi ultimi pacchetti. Scowet. Shappet. Koffing. Yamask di galar. Snowver. Energia psico. Crabobinable. Guanti ignifughi. Dai. Nia. Non me ne interessa niente. Ledyan. 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 Ledya. E' normale. Cobalion. Olografico. Cobalion. Olografico. Meno 3 pacchetti. Cobalion. Olografico. Ragazzi. Si piange. Non voglio fare spoiler. Questi pacchetti. Voglio che siano proprio i più inaspettativi. Veramente di sempre. Quindi vediamo di trattarli. Trattarli molto molto bene. Non sento nessuna ruvidità. Più che altro. Se esiste in italiano ovviamente. Ledyba. Castform di lana. Castform forma sole. Di nuovo. Yamask di galar. Zwirlix. Energia acciaio. Agatha. Dai Raboot. L'antenna di benvenuto. Rotolo dei cedi. Colpo rapido. Reverse. E' una V. E' una V. E' non so chi possa essere. Forse è slow. No. Slow non c'è quanto ria. Oh. Kyrax. Cavaliere glaciale B. Però. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Però. Peccato. Kyrax. Cavaliere glaciale B. Va bene. Non è tra quelle più rare. Purtroppo. Perché c'è quella B. Max. Tra l'altro. Rara segreta. Praticamente. Non è Hyper. Rara segreta. No. C'è anche Hyper. Ovvero quelle tipo arcobaleno. Se avete presente. Ne mancano due di pack. Ragazzi. Dannazione. Devo fare il miracolo. In questi ultimi due pacchetti. Praticamente. Devo fare assolutamente il miracolo. Dai. Dai. Speriamo bene. Speriamo bene. Qua c'è Eracross. Colpo singolo. Chiaramente. Marip. Larvesta. Delibird. Che mi pare di aver visto. Dirling. Molto bello. Energia acqua. Stini. L'albero Dynamax. Il rotolo dei cieli. L'Eracross. Di nuovo. E questo non è niente. Banette. Banette ragazzi. Banette. Ultimo pacchetto. Cavalirex. Cavaliere. Spettrale. Eh. Ho trovato solamente una B. Max. Poi tutte B praticamente. Tutte B. Che strano. Che strano ragazzi. Che strano. Va bene. 4 e 2. Questo qua è l'ultimo pacchetto. L'ultimo pacchetto signori. Esattamente. Abbiamo Dirling. Questa qua è praticamente una marcia. Verso la sconfitta. Golett. Diglett. Scorbanni. Inkay. Energia buglio. Sileo. Grabroller. E. Cosa abbiamo? Sosbok. Sosbok ragazzi. Sosbok. Cioè io praticamente ho trovato tutte B. Ho trovato questa. Sloking di Galar V. E poi tutte. Tutte D-Max. E poi tutte B ragazzi. Tutte B praticamente. Tutte B. Tutte B. C'è anche. Ci sono anche gli vari uccelli leggendari. E poi Calyrex. Quindi nulla ragazzi. La nostra esperienza di quest'oggi si chiude con una B-Max. E poi tutte carte B praticamente. Niente allenatori. Niente energie. Gold. Niente di gold. Peccato. I pacchetti sono finiti. Quindi ringrazio tantissimo il Federic Store. Vi ricordo. Link in descrizione. Speriamo di fare altre collaborazioni. Con il codice sconto. Rocket 25. 5% di sconto sul primo acquisto. Scade il 30 giugno. Si può utilizzare solamente ovviamente al primo acquisto. Quindi una volta per persona. Mi raccomando ragazzi. Supportatemi. Un mi piace. Un commento. In descrizione al canale. Per avere altre collaborazioni in futuro magari. Sempre con il Federic Store. Che ringrazio per questo box di regno glaciale. Quindi per oggi possiamo dire che dal buono Rocket è tutto. Rocket vi auguro un buon pomeriggio. Una buona giornata. E ovviamente. Come sempre. Bye bye.